Oggi tratteremo due tipi di controllo visuale molto comuni, il checkbox e il radiobatto. Sto usando un progetto con una app strutturata al solito modo, da ormai parecchi video. La struttura di scaffold che serve è davvero semplice. Abbiamo un container center con dentro un widget column con due child, questa scritta checkbox demo e il checkbox vero e proprio, questo. E salta subito all'occhio questo primo parametro, three state true, significa che il checkbox ciclerà col click, col tap, su tre stati, e cioè deselezionato, scelta non espressa, confermato, e questo che potremmo definire neutro o anche negato, non a caso c'è il meno. Poi vi spiego. Queste tre posizioni del bottone checkbox sono codificate con un boolean, con un bool, true quando c'è la spunta, false quando è bianco, null quando siamo in questo stato col trattino. Forse vi starete chiedendo, ma a che cosa può servire un terzo stato? Rende molto più flessibile il checkbox, faccio un esempio concreto. State scegliendo quella che sarà la vostra prossima scheda video. Spesso il sistema di shopping vi offre la possibilità di filtrare modelli caratteristiche e spesso lo fa proprio con dei checkbox. Di solito la logica è, fammi vedere quelli che soddisfano il criterio che io ho scelto. Ma immaginate invece di voler escludere qualche cosa. Cioè, essendo stati insoddisfatti di una certa marca, vorreste escluderla. Ecco allora che potreste segnare il checkbox in corrispondenza della marca che non volete col terzo stato. Diversamente dovreste selezionare le tutte meno questa. Un bel salto di qualità nella flessibilità, no? In ogni caso non vi servisse il terzo stato, basta mettere qui false e a quel punto avreste il classico vuoto o spuntato. Tra parentesi, avrete notato che sto sfruttando un nuovo sistema di aggiornamento. Invece di usare il comando alla terminale flutter run, ho lanciato il tutto con ctrl f5. Sono poi i comandi che trovate qua. Avvia con o senza debug. La pulsantiera va a sostituire gli input R minuscolo o maiuscolo nel terminale. Questo è il hot reload che dovrebbe corrispondere a R minuscolo e questo a R maiuscolo. Ma la cosa interessante è che non appena si conferma con salvo una modifica, non c'è bisogno di andare a premere in quei tasti. È automatico. Aggiungo qui un'altra e-commerciale. Sto per premere ctrl s, dato un'occhiata anche all'emulatore, ctrl s e automaticamente viene tutto aggiornato. Comodo e poi c'è di più. Ma al momento va bene così. Torniamo al nostro checkbox. Per farlo funzionare c'è comunque bisogno di gestire uno stato, delle variabili. Può essere più evidente questa necessità per un test field, la stringa. Ma anche qui dobbiamo codificare in qualche modo lo stato del checkbox. Lo si fa con una variabile bool come? Three state true false. No, non dimentichiamoci che dart gestisce gevolmente anche il valore null, anzi l'oggetto null. Per cui il checkbox vuoto, non confermato, false, spuntato true e il terzo stato negato null. Ma in partenza in che stato sarà il checkbox? Lo decidiamo qui, con questo secondo parametro, che rivela anche quale sia la variabile che Giovanni ha predisposto qui in alto nello stato interno della classe. Questo bool, cb checkbox state, false in partenza. Quando si fa click tap sul checkbox viene eseguita la funzione, qua espressa nella solita forma anonima, associata a questo terzo parametro e gestore di evento, onChanged, che riceve da Flutter come parametro lo stato verso il quale deve transitare il checkbox, ma che saremo noi a poter confermare, così potremo fare eventualmente anche tutta un'altra serie di cose, ma non in questo caso, dove al set state passiamo una funzione che semplicemente aggiorna il valore della variabile cb state e poi chiede la rigenerazione del widget. Chiudiamo segnalando un paio di parametri che possono essere interessanti, più che altro a livello estetico, ma a volte molto importante. Abbiamo un active color e un check color, il cui significato è abbastanza immediato, ma vi aiuto aggiungendo un secondo checkbox, dove ho cambiato i colori. Sopra green e red, sotto yellow e white. Quando il checkbox è in stato di non selezionato, nessuna differenza, ma guardate quando aggiungo qua la spunta e confessateci. Siete rimasti stupiti dal fatto che sono cambiati insieme? La risposta è no? Bene. Avendo fatto copia e incolla, la variabile di stato è la stessa, per cui il destino va l'uno a braccetto con l'altro. Ok, e questi sono i colori in azione. Passiamo ora al radio button, che è un pochetto più complicato da gestire, perché mentre per il checkbox è sempre true, false e null, ogni opzione che potete selezionare con un radio ha un suo valore, che è quello che dovremo gestire nel set state, quando l'utente fa clic o tap su radio button. Seguo Giovanni, che è andato per gradi. Vediamo prima di inserire giusto come interfaccia tre radio button. Facciamolo apparire sotto i checkbox. Dunque, dobbiamo aggiungere un altro livello di container, perché center è un di quei widget che può contenere un solo figlio, infatti qui abbiamo child e non children, per cui potremmo incorporarlo a sua volta in un column, di cui lui è diventato il primo child. Ecco, ecco l'altro center. Come child un row, perché vogliamo radio button in orizzontale, e sono, si diceva, i suoi figli, child 1, 2 e 3. Salvo. Ah, sì, mi sono dimenticato di specificare per il column più esterno il main axis alignment. Ecco fatto. Vabbè, andava bene lo stesso. Per il momento Giovanni ha lasciato vuote a null proprietà importanti, che adesso in progressione andremo a completare. Innanzitutto, dove far pescare i valori per il radio? La scelta più razionale è quella di predisporre una enumerazione, i cui elementi diventeranno i possibili valori per questi radio button. Quindi un'enumerazione con tre valori, che potremmo chiamare genericamente option 1, o ancora meglio abbreviato opt 1, opt 2, opt 3. Per chi avesse poca confidenza con le numerazioni, abbiamo implementato un meccanismo simile a quello dei colori, no? colors.red e qua e qua potremmo invece comandare opzioni in un punto e avremo tre possibilità, come fossero i tre colori, opt 1, opt 2, opt 3. Adesso possiamo assegnare al parametro value di ogni radio button la sua option. Quindi al primo, opt 1. E similmente per gli altri. E da qui si comincia a capire che il value non è tanto lo stato del radio button. Ogni radio button ha sempre quel value. Ma quel value è ciò che dovrà essere inviato quando qualcuno va a fare clic o tap su quel radio button. E lo faremo naturalmente nell'onchanged, dove il sistema dice Ah, guarda che è stato fatto clic tap sul radio, il cui value è quello che qua riceviamo. E che diventa il value del gruppo di radio button, quando ho fatto una scelta, allora il value di quel radio button è rappresentativo dell'intero gruppo. Ci manca però il destinatario, la solita variabile nello stato interno che andiamo ad aggiungere vicino a quella dei check box. Di che tipo sarà? Beh, una opzioni enum. Poi come nome potremmo mettere radio scelta e un valore di partenza che renderà preselezionato il radio che vorremmo. Tipo opzioni opt1. O meglio lo sarà, non appena avremo indicato che la variabile associata ai tre radio button del gruppo di questi tre radio button è appunto radio scelta. qui salvo e adesso davvero il primo ad essere preselezionato. Proviamo a cambiare. Serve però un restart. Utilizzo questo riavvia. Ecco qui. Non abbiamo ancora però finito. Dobbiamo gestire il click tap col cambio del new value che deve essere assegnato alla variabile radio scelta. Siccome l'operazione da fare è la stessa per non riscrivere tre volte la stessa funzione anonima in ciascun dei radio button questa volta useremo una funzioncina esterna scritta però una volta sola. Mettiamola qua prima del build. On radio tap tap click ricevendo il new value chiamiamo il set state e come operazione assegniamo il new value a radio scelta. Completiamo andando a indicare qui la funzione on radio tap a cui sarà passato in automatico il parametro new value ma è importante qua mettere soltanto il nome. Qui Flutter comunque si aspetta un riferimento o completo in forma anonima o lambda o soltanto come nome della funzione di una funzione che riceve un parametro e on radio tap soddisfa questo vincolo. Osservazione. L'evento che scatena l'aggiornamento dell'interfaccia è quindi il cambio di valore di group value. E Flutter capisce quale radio va selezionato facendo un confronto tra il valore attivo in quel momento di group value e il value del radio per cui quando ad esempio se per qualunque motivo il valore di group value è stato fatto transitare a opzioni enum.op3 Flutter farà passare il radio trova questo che è quello con corrispondenza op3 op3 e quello accende. Se volete fare un giochino date come value op3 anche a questo secondo radio quello centrale e quello che succede è questo. Un giochino però chiarisce il meccanismo dietro le quinte. Il gruppo value potremmo dire che svolge lo stesso ruolo del name dei radio button in HTML che permette di distinguere tra gruppi di radio button presenti sulla stessa form e che devono funzionare in modo indipendente. Finiamo allora con questo ultimo esempio ho aggiunto un ulteriore center con un row di altri tre radio button ho cambiato le numerazioni di riferimento con un caso abbastanza concreto etichette a parte che non ho messo per pigrizia il primo gruppo di due radio button servirà a scegliere il sesso fra maschio e femmina e il gruppo dei tre radio button sottostante invece lo stato di lavoro disoccupato occupato pensionato avremo bisogno allora di due variabili agganciate al gruppo value in partenza maschio stessa cosa per il gruppo dei tre radio button con valore di partenza dalla variabile di controllo disoccupato ho perciò poi differenziato con due metodi l'on radio sesso TEP e on radio lavoro TEP qua sotto i due center il primo i cui componenti sono caratterizzati dal fatto di avere tutti lo stesso gruppo value come variabile di riferimento radio sesso il value che identifica il primo maschio femmina il secondo non changed come dicevo richiama l'on radio sesso TEP similmente ultimo center col suo row dei tre radio button per il lavoro disoccupato occupato pensionato per buona misura ho anche aggiunto un bottone per dimostrare che la selezione di un radio button può avvenire anche in modi slegati da click su di esso questo raised button cambia il valore dalla variabile radio lavoro in occupato e di conseguenza quando poi verrà rigenerato lo stato visto che è chiamato il set state cambierà anche la selezione nel radio button è importante notare come questi due siano dipendenti dagli altri tre vediamo infine il bottone assumi che fa selezionare il corrispondente radio button e questo chiude il video nel prossimo toccherà i controlli switch e slider a risentirci a risi a risi Grazie.